La Scuola di Architettura dell'Università di Camerino, con sede ad Ascoli, ha consegnato ieri all'IRCA di Ancona le prime 100 valvole di adattamento per le 250 maschere da snorkeling donate alla Regione Marche da Decathlon Italia. Dopo la donazione, l'UNICAM si è offerta di realizzare attraverso stampa 3D le valvole di raccordo necessarie per l'adattamento ai macchinari per la terapia assistenza respiratoria per i pazienti non in terapia intensiva. L'Università sta procedendo con una capacità di circa 20 pezzi al giorno e la produzione terminerà entro martedì prossimo, dopodiché sarà organizzata la distribuzione agli enti del servizio sanitario regionale. Erano presenti alla donazione in videoconferenza anche il Rettore Claudio Pettinari ed il Direttore della Scuola di Architettura Ascolana Giuseppe Losco. Un esempio di collaborazione a tutto tondo ha affermato il Governatore Luca Ceriscioli fra enti istituzioni pubbliche e privati per affrontare l'emergenza mettendo in campo le migliori risorse a disposizione. L'Università di Camerino ha affermato invece il Rettore Claudio Pettinari è a disposizione della Regione per tutte le iniziative in cui può offrire il proprio contributo significativo mettendo in campo le proprie specifiche competenze.